Si chiude un'esperienza durata dieci anni. Democrazia Popolare, la forza di centro, fedelmente rimasta nei ranghi del centrodestra, non sarà presente alle amministrative di Campobasso insieme a Democrazia Popolare. Sparisce dal lagone politico anche il popolo della famiglia. Entrambe le formazioni avevano proposto a candidato sindaco il nome di Francesco Pilone, nome che poi per le liturgie romane è stato accantonato lasciando un deciso amare in bocca all'interessato. Nonostante tutto, dice Pilone, saremo a fianco alla candidata designata Maria Domenica D'Alessandro. Con il pragmatismo dell'avvocato D'Alessandro sono convinto che il centrodestra recupererà la città di Campobasso. Oggi era giusto incontrare la stampa per fare un consuntivo della nostra attività amministrativa e per annunciare che comunque le liste di democrazia popolare, anche del popolo, della famiglia che hanno sostenuto, se vogliamo, il mio nome poi è andata come è andata, comunque non ci saranno nella competizione. Era doveroso dirlo perché chi fa politica ci mette la faccia. Poi le cose vanno come devono andare, però è giusto mettersi insomma in discussione anche quando si fa questo tipo di attività. Al momento però Pilone non scioglie la riserva su una sua eventuale candidatura. Sto riflettendo, valuterò questa cosa con la mia famiglia serenamente e vedo se sono della partita. In corsa invece ci sarà Maria Laura Cancellario, consigliere uscente di democrazia popolare, passata nelle fila di Forza Italia, positivo il suo giudizio sugli anni passati. Sarò candidata in Forza Italia, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di fare questa candidatura. A livello nazionale i movimenti civici hanno visto una battuta diciamo così d'arresto in favore dei partiti tradizionali. Quindi le Forza Italia perché è la casa dei moderati, è il partito sicuramente che rispecchia più da vicino le mie ideologie sui grandi temi, penso ai temi dell'Europa, del lavoro, dell'immigrazione e rispetto magari ai partiti più populisti diciamo di centrodestra. Ringrazio Francesco Pilone, il mio collega. Democrazia popolare è stata un'esperienza bellissima, dieci anni in democrazia popolare, sempre dalla stessa parte. Abbiamo fatto un lavoro importante, siamo contenti perché abbiamo dato veramente quello che potevamo e abbiamo avuto dei riscontri positivi.